E' autunno ed è tempo di vaccinazione anti-influenzale. In questo video ti diamo risposta alle 5 domande che i genitori normalmente ci fanno sul tema dell'influenza, ma soprattutto della vaccinazione anti-influenzale. Seguilo fino alla fine. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora oggi abbiamo detto che parliamo di influenza. La domanda che viene spesso fatta in ambulatorio da voi genitori stessi è cosa ne dice perché dovrei vaccinare il mio bambino contro l'influenza quando io non mi ammalo mai di influenza. E' certo. Per rispondere a questa domanda ricorriamo a due grafici. Uno è quello della curva dell'influenza nei mesi invernali in tutta la popolazione. Si vede che l'influenza incomincia più o meno a dicembre, se ci va bene prima di Natale ci lascia fare il Natale tranquilli e poi aumentano i casi, hanno un massimo verso il mese di febbraio e poi incominciano a diminuire. Questo è l'andamento classico dell'influenza tutti gli anni, tranne gli anni in cui siamo stati chiusi in casa per il Covid, in cui questo fenomeno non si è osservato e non si è osservato in tutto il mondo. Ma se guardiamo il grafico per fasce d'età, scopriamo una cosa estremamente interessante e cioè che gli adulti si ammalano in media il 10% della popolazione, mentre i bambini, soprattutto i bambini delle fasce più piccole, quelle che vanno all'asilo, alla scuola materna, si ammalano al 50%. Vuol dire che un adulto su 10 ogni anno fa l'influenza, ma un bambino su 2 ogni anno fa l'influenza. Quindi ci sta che il papà non si renda conto che è una malattia impegnativa, perché lui la fa un anno sì e no, secondo la statistica, mettiamo che vada diversamente, la fa raramente. Viceversa ai bambini è quasi sicuro che la facciano. La seconda domanda è ma cosa intendiamo per influenza? Ovvero spesso la parola influenza viene usata per indicare una comune infezione delle prime vie aeree. Mi sento un po' influenzato, ho fatto l'influenza, io faccio l'influenza 5-6 volte in un anno, non è possibile. Cos'è l'influenza? Allora, la vera influenza è quella sostenuta dai virus dell'influenza, che sono diversi da tutta una serie di virus respiratori cosiddetti parainfluenzali, che danno dei sintomi simili, ma sono diversi come eziologia, come causa. Quindi la vaccinazione per l'influenza è efficace solo quando arriva l'infezione causata da questi virus. I virus dell'influenza che sono stati identificati sono di gruppo A, di gruppo B, di gruppo C e all'interno di questi tre gruppi ci sono tante variabili, ma le vedremo poi, che cambiano anche di anno in anno. Certo, quindi che cosa caratterizza l'influenza quella vera? Anzitutto viene una volta l'anno, uno non può fare più volte l'influenza. Seconda è la più grave di tutte, perché non c'è paragone fra gli adenovirus, i virus del riniti comuni e il virus dell'influenza come impatto clinico. L'influenza è una malattia anche potenzialmente molto seria che dà giorni e giorni di febbre alta, dà dolori muscolari, mal di ossa, dà mal di testa forte, dà ovviamente la tosse che è una tosse tipicamente con tracheite. Quindi i sintomi sono sempre dello stesso capitolo respiratorio, a parte che qualche volta ci sono anche segni gastrointestinali, ci può essere vomito e diarrea, ma è l'impatto generale sull'organismo che è maggiore durante l'influenza. Diciamo che è la forma più debilitante di tutte queste forme respiratorie invernali e quindi intanto più lunga da un punto di vista di sintomatologia clinica e poi anche come cosiddetta convalescenza ci sono bambini che per giorni e giorni poi fanno fatica a riprendersi completamente. Certo, non dimentichiamo le complicazioni. Noi ovviamente non saremmo in grado di dire quale bambino avrà e quali non avrà complicazioni, ma noi sappiamo per certo che se al mese di gennaio febbraio c'è l'influenza, a febbraio marzo noi vediamo le polmoniti, le otiti, le sinusiti, cioè vediamo tutta una coda di grane che si sovrappongono a un'influenza che lascia evidentemente debilitati. Quindi per un motivo o per l'altro l'influenza è una malattia impegnativa e come abbiamo detto non è impegnativa solo per gli anziani che sono chiaramente i primi destinatari della vaccinazione ma lo è anche per i bambini. Questa cosa è così importante che l'Accademia Americana di Pediatria ormai da molti anni consiglia, raccomanda fortemente la vaccinazione anti-influenzale a tutti i bambini sotto i sei anni. Perché? Proprio perché è la fascia più colpita sia dal virus che dalle sue complicazioni. In questi ultimi due anni anche il Ministero della Salute in Italia ha fatto una grande campagna vaccinale e ha reso gratuita la vaccinazione anti-influenzale da 0 a 6 anni e in tutti i bambini di quelle categorie cosiddette fragili. La domanda successiva è quali vaccini possiamo fare ai nostri bambini? Esistono diversi tipi di vaccini, li possiamo fare tutti, ce ne sono di specifici, alcuni bambini possono farne solo alcuni? Beh certamente sì, la risposta è effettivamente non tutti i vaccini contro l'influenza possono essere dati ai bambini o a tutti i bambini. Cominciamo subito col dire che ci sono tre tipi di vaccini anti-influenzali. Il primo è il vaccino per così dire semplice che poi è quello più indicato per i bambini, cioè è fatto in maniera sintetica prendendo dei pezzi del virus influenzale, sintetizzando il laboratorio dei pezzi del virus anti-influenzale, in modo che l'organismo faccia gli anticorpi contro questi pezzi. Si tratta di una fiala che viene iniettata in tramuscolo e che non ha dentro il virus vivo, ha solo qualcosa che gli somiglia e che possa stimolare il sistema immunitario. Questo è il tipo di vaccino indicato nei bambini piccoli, per capirci, fra i sei mesi e i due anni. È indicato anche sopra, fino a qualche anno fa era quello che facevamo noi adulti, per capirci. Sotto i sei mesi non si fa il vaccino dell'influenza, quindi sotto i sei mesi niente. Dai sei mesi ai due anni assolutamente solo quello iniettivo a subunità. Dopo esiste un altro tipo di vaccino che si può fare se è disponibile, e cioè un vaccino che si spruzza nel naso. Questo vaccino contiene un virus vivo, attenuato, quindi non è più un estratto, una sintesi del virus, ma è piuttosto un virus addomesticato che gli somiglia. Quali sono le caratteristiche? Beh, anzitutto, chiaramente lo capite tutti, la semplicità di somministrazione. Lo spruzzi nel naso, non ci sono punture, si fa in un attimo, il bambino non piange, e quindi è chiaro che è molto comodo. Di contro costa molto di più, ma questa è una cosa che è grave sul Servizio Sanitario Nazionale, insomma faranno le loro scelte economiche. Diciamo che noi, se ce lo danno da somministrare, siamo ben contenti. Il nodo vero, però, è che essendo un virus vivo, attenuato, non può essere dato ai bambini che possono sviluppare reazioni. Quali sono? Quelli immunodepressi. Se un bambino è naturalmente immunodepresso, perché ha una malattia che comporta immunodeficienza, sono rare, ma purtroppo esistono. Oppure se un bambino è immunodepresso, perché sta facendo delle terapie per le quali il suo sistema immuno risulta debilitato. Se vogliamo essere ancora molto più prudenti, probabilmente anche un bambino che ha in casa una persona immunodepressa deve stare attento. L'ultimo tipo di vaccino anti-influenzale che non usiamo nei bambini è il vaccino cosiddetto adiuvato. A chi è diretto? Agli anziani. Perché gli anziani rispondono poco. Quando un bambino fa il mal di gola, fa 39 di febbre. L'anziano che ha la polmonite fa 37 e mezzo. Quindi l'entità della risposta dell'anziano, della risposta immunitaria, è più modesta. Bisogna metterci un po' di pepe, bisogna metterci un po' di piccante. Allora che cosa succede? Al vaccino viene aggiunta una sostanza che si chiama squalene, che viene dagli squali, insomma è un grasso che è stato sintetizzato a partire da quello che è presente negli squali, il quale rende la risposta immunitaria molto più vivace. In un anziano se lo fa un adulto, se lo fa un bambino è un pasticcio perché gli amplifica una risposta di cui non ha bisogno. Quindi vietato fare i vaccini adiuvati negli adulti sani e meno che mai nei bambini. Sotto i sei mesi cosa si può fare? Normalmente si cerca di fare l'immunità all'interno del gruppo familiare e quindi di vaccinare le persone conviventi in maniera che ci sia una sorta di campana di vetro in cui il piccolino rimane coperto dall'immunità degli altri. Lo spray nasale, che è appunto un vaccino vivo attenuato, non è indicato nemmeno in tutti i bambini cardiopatici, grazie a Dio sono pochi ma esistono, soprattutto quelli che hanno una terapia con l'acido acetilsalicidico e in tutti quei bambini che soffrono di asma grave. Cosa vuol dire? Non che hanno un attacco asmatico in atto perché ovviamente quelli devono rimandare il vaccino, ma che hanno un asma difficilmente sotto controllo anche con la terapia. Ultima controindicazione per il vaccino nasale, che si può fare abbiamo detto dai due anni fino ai 18 anni, insomma ecco comunque non è abilitato per l'adulto, è un'allergia grave all'uovo, ma non un'allergia nel senso che viene un po' di prurito se mangio la frittata, se uno fa uno shock anafilattico. Chi ha una storia di shock anafilattico per l'uovo non deve fare questo vaccino, il perché è presto detto, il virus attenuato viene coltivato su uovo embrurato di pollo. Quindi come dire ci può essere traccia delle proteine dell'uovo, anche se molto diluita, ma ci può essere traccia nel liquido in cui è stato fatto crescere. Altra cosa per quanto riguarda i vaccini è quante dosi di questo vaccino anti-influenzale dobbiamo fare ai nostri bambini. Allora, indipendentemente dal tipo di vaccino, se il bambino ha meno di nove anni e non ha mai fatto il vaccino anti-influenzale dovrà eseguire due dosi a distanza di quattro settimane una dall'altra. Questo perché si presume che chi ha già fatto il vaccino ha in qualche modo una memoria dell'anno prima che poi vi diremo serve a qualcosa in termini di protezione. Perché la soglia dei nove anni? Perché dopo nove, dieci anni che un bambino al mondo sicuramente qualche epidemia influenzale l'ha vista e quindi anche se non ha mai fatto il vaccino probabilmente ha fatto l'influenza e quindi non è del tutto ingenuo rispetto al virus. Quindi sostanzialmente sarebbe un vaccino che richiede un richiamo ma oltre i nove anni o comunque se abbiamo già vaccinato il bambino gli anni scorsi non lo facciamo perché di questo vaccino o delle sue varianti resta memoria nell'organismo. Altra cosa se il bambino appena ha fatto delle vaccinazioni secondo il suo calendario in teoria deve passare un mese di tempo dal vaccino precedente che ha eseguito. I pediatri sanno che queste sono misure di prudenza che si possono come dire tirare un po' se è necessario a seconda del tipo di vaccino che è stato fatto. Se hai fatto un vaccino vivo attenuato quindi se hai fatto quelli vivi come è l'influenza nasale ma come sono anche quello del morbillo, della parotite, della rosolia, questo tipo di vaccini deve assolutamente passare un mese. Se hai fatto un vaccino inerte, inattivato in cui non c'è virus dentro come fosse l'antitetanica, probabilmente si può anche ridurre se è necessario il tempo di attesa. Siccome però non ci corre dietro nessuno cerchiamo di giocare il calendario vaccinale in modo da farle con ordine da non sovrapporle. Se quanto abbiamo detto finora ti ha interessato e pensi che possa servire ad altri genitori metti un like. La domanda successiva è ma visto che io faccio la vaccinazione quest'anno perché dovrò rifarla l'anno prossimo. L'influenza è sempre l'influenza. Errorissimo. Non è vero. L'influenza è sempre l'influenza solo che cambia tutti gli anni. Il morbillo è sempre il morbillo. La parotite è sempre la parotite per cui per il morbillo faccio la vaccinazione una volta, poi devo fare un richiamo, ma poi per tutta la vita sono a posto. L'influenza non è così. Il virus dell'influenza nel passare da una persona all'altra cambia e tutti gli anni è più o meno diverso rispetto all'anno prima. Non clamorosamente diverso, un pochino diverso, quel tanto che basta però perché molte persone non lo riconoscano. Quindi perché lo fa una persona su dieci, non perché gli altri sono più bravi a difendersi, ma perché negli altri magari c'è memoria di un virus simile l'anno prima. Mentre quello su dieci che è un po' che non vede virus influenzali, nel frattempo il virus è cambiato abbastanza da colpirlo. In altre parole, se volete vi raccontiamo tutta la storia. Ci sono i virus di gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quelli C sono virus da epidemie minori non ci importa tanto. Le varianti del gruppo B sono quelle che fanno le piccole variazioni da un anno all'altro. Le varianti del gruppo A, viceversa, sono le grosse varianti, quelle che fanno le cosiddette pandemie, quelle che hanno causato la spagnola, quelle che hanno causato le epidemie mondiali. Ai medi, le epidemie mondiali, siamo diventati esperti e per giunta non per l'influenza che aspettavamo. Tuttavia il concetto è, se il virus cambia di poco ci sarà una quota di persone nella popolazione che è in grado di combatterlo. Se il virus cambia di tanto troverà tabula rasa perché nessuno nella popolazione ha mai visto un virus simile. Questa cosa succede tutti gli anni, qualche anno cambia di poco, qualche anno cambia di più. Per cui aver fatto la vaccinazione come è aver fatto l'influenza negli anni passati non ti elimina il rischio di farla anche quest'anno. E anche il vaccino antinfluenzale cambia tutti gli anni. Perché? Perché i virus dell'anno precedente vengono analizzati da alcuni gruppi di medici, vengono analizzati quali sono le sottovarianti e il vaccino per l'anno successivo verrà fatto includendo queste sottovarianti del virus. Infatti non si può usare i vaccini avanzati dall'anno prima, non perché vanno a male, ma perché semplicemente il virus nel frattempo è cambiato e anche il vaccino deve cambiare. E sulla scatola della confezione del vaccino c'è scritto antinfluenzale 2021-22 perché è quello che dovremmo fare adesso. Da ultima la domanda più frequente è anche forse quella, la maggiore opposizione alla vaccinazione e cioè dottoressa ma io ho fatto il vaccino, mia sorella ha fatto il vaccino eccetera eccetera e abbiamo lo stesso preso l'influenza quindi non ci credo molto. Come rispondiamo? Beh direi che le risposte possono essere tre. Innanzitutto la prima cosa è che il vaccino non copre al cento per cento e quindi ci possono essere soggetti che sono in quell'anno resistenti al vaccino che hanno fatto. Non esiste nulla in medicina, in biologia, nella vita che è garantito al cento per cento perché dovrebbe essere un vaccino. La seconda ragione è quella che abbiamo appena spiegato. Il vaccino di quest'anno è fatto sulle variazioni del virus dell'anno precedente quindi può darsi che quest'anno il virus che arriva è molto diverso da quello dell'anno precedente per cui il vaccino non copre le variazioni minime quindi uno si ammala lo stesso. La terza ragione, forse la più banale però, è che non siamo sicuri che sia davvero influenza. Voglio dire non siamo sicuri che quella forma respiratoria che abbiamo avuto sia dovuta ai virus A, B o C dell'influenza. Potrebbe essere un adenovirus, potrebbe essere un altro di tutti quei virus spari influenzali appunto che ci ha dato dei sintomi più gravi del solito. Questo va detto e ve lo dobbiamo dire ancora in chiusura. Non aspettatevi che facendo il vaccino dell'influenza abbiamo risolto tutte le febbri di un inverno ma sarebbe bellissimo. In realtà ne evitiamo solo una ma probabilmente evitiamo la peggiore, quella che dà più complicazioni, quella che è più cattiva verso i più deboli, verso i cardiopatici, verso chi ha malattie croniche che sono i primi che dovrebbero vaccinarsi. Insomma che il vaccino contro l'influenza abbia la sua efficacia e tuteli dalla trasmissione del virus è cosa ampiamente dimostrata. Quindi il nostro consiglio è quello di farlo. Rimane il fatto che se voleste raccontare la vostra esperienza o aveste altre domande da farci sull'argomento siete i benvenuti utilizzando i commenti in coda al video. Scrivete, scrivete le vostre domande e noi come sempre risponderemo. Alla prossima. Arrivederci.